La mia famiglia non ha mai avuto soldi dal partito, così Renzo Bossi e le fratello Riccardo Contrattacca è un complotto dei magistrati contro la Lega. Ieri sera le dimissioni da tesoriere di Francesco Belsito, ma l'inchiesta di tre procure va avanti, interrogata dalle PM di Napoli, Woodcock, la segretaria di Umberto Bossi. Il leader del Carroccio, secondo gli inquirenti, avrebbe beneficiato di ingenti somme di denaro, milioni di euro, stornate dai rimborsi elettorali del partito. Abbiamo sciolto tutti i nodi, ha detto Monte al termine del vertice notturno con Alfano, Bersani e Casini. Le intese raggiunte danno praticamente il via libera alla riforma del lavoro. Nel pomeriggio conferenza stampa del Premier che in un'intervista ipotizza governi di grande coalizione anche dopo il voto politico. Lo spread in salita tocca quota 350 punti e vanno male anche le borse. Notizie incoraggianti invece sul fronte dei conti pubblici. Il rapporto tra deficit e PIL scende nel 2011 rispetto all'anno precedente dal 4,5% al 3,9% e il dato, secondo l'Istat, potrebbe migliorare ancora. Si è già perso troppo tempo per riformare le norme sulla corruzione. Un disegno di legge giace in Parlamento ormai da due anni. È il momento di agire. Alla 7 il vicepresidente del CSM Michele Vietti invita le forze politiche ad uno scatto d'orgoglio. E l'Italia è fuori dalla Champions League dopo l'eliminazione del Milan. È in casa il Barcellona vince per 3 a 1 e si qualifica grazie a due rigori di Messi. Una sconfitta amara che fa esplodere la rabbia dei rossoneri. Un rigore l'abbiamo regalato noi, dice l'allenatore Allegri, ma l'altro l'arbitro. Buongiorno a tutti voi dalle telegiornale della 7. Dunque in primo piano ci sono gli sviluppi dell'inchiesta delle procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria sull'ex tesoriere del Carroccio indagato con l'accusa tra le altre di avere preso i soldi dei rimborsi elettorali del partito. Per circa due ore questa mattina è stata interrogata in procura a Milano la segretaria di Bossi mentre Francesco Belsito si difende. I soldi non erano per me. Sentiamo. Non ho preso niente per me. I soldi sono serviti a soddisfare le esigenze di altri soggetti. L'ex tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito lo confessa il 21 febbraio scorso a un altro indagato coinvolto nello scandalo dei fondi elettorali sottratti alle casse del partito. Lo si legge nel rapporto dei carabinieri del Noe di Napoli. È lo stesso documento che ha dato il via alle perquisizioni ordinate dalla procura di Milano dove si ipotizza che quel denaro sia stato utilizzato per sostenere i costi della famiglia del leader del Carroccio Umberto Bossi con assegni circolari, contanti e contratti simulati. Proprio questa mattina il pubblico ministero di Napoli Woodcock ha interrogato in trasferta al tribunale a Milano la segretaria del leader del Carroccio Daniela Cantamessa. Era già stata sentita ieri dai magistrati lombardi che hanno fatto un ulteriore passo avanti. Vogliono perquisire al più presto la cassetta di sicurezza di Belsito a Roma. Aspettano però il via libera del presidente della Camera Gianfranco Fini perché si trova in un ufficio di pertinenza proprio della Camera dei Deputati. Era stato lo stesso tesoriere del Carroccio a consegnare le chiavi della cassetta agli inquirenti. Non ho nulla da nascondere aveva detto. Sotto la lente degli investigatori ci sono diversi movimenti di denaro sospetti, in particolare quelli spesi per ristrutturare la villa di Gemonio di Bossi, 50.000 euro per comprare un'automobile nuova al figlio Renzo e le spese per pagare la sua scuola. Altro denaro che proviene da robusti rimborsi elettorali, e si parla di milioni di euro, sarebbe stato trasferito in Tanzania e a Cipro per poi tornare in Italia. Soldi che secondo gli inquirenti sono stati consegnati in parte in contanti proprio per mano di Belsito, infilati in un cappello o come si legge sempre dalle intercettazioni in una scatola di bottiglie di vino. Elementi inequivocabili, i secondi PM che stanno pure indagando su un falso rendiconto da 18 milioni di euro del 2011. Belsito, ex butta fuori, ex animatore sottosegretario nel governo Berlusconi è passato dalla vicepresidenza di Fincantieri a Tesorieri della Lega. Secondo la procura di Reggio Calabria, la terza a indagare sul caso avrebbe anche stretti rapporti con un uomo legato all'Andrangheta. L'ex tesoriere è indagato per truffa gravata ai danni dello Stato, appropriazione in debita e riciclaggio. Intanto proprio in questi minuti è arrivato il via libera di Gianfranco Fini, le cassette di sicurezza di Belsito che si trovano nei locali del gruppo della Lega Nord alla Camera potranno essere aperte, il contenuto potrà essere esaminato dalle procure. Vi ricordo che Belsito non è un parlamentare. Allora dicevamo di Renzo Bossi, quella di oggi è una difesa la sua a tutto campo. Infatti oggi replica alle accuse dei PM secondo i quali i fondi della Lega Nord sarebbero stati utilizzati dalle senature e dalla sua famiglia. Il trota difende anche il comportamento di Francesco Belsito e nega che i bilanci del Carroccio siano opachi. L'altro figlio delle senature, Riccardo, parla di complotto dei magistrati. Sentiamo. Scende le scale del Consiglio regionale Lombardo senza un sorriso e senza l'abituale baldanza. E' lui il primo dei bossi a parlare nel mezzo della tempesta che sta stravolgendo famiglia e movimento. Sono sereno, io di soldi della Lega non ne ho mai presi, non li ho presi in campagna elettorale e non li prendo adesso da consigliere. Come tutti i miei colleghi do una percentuale al movimento e come tutte le persone mi pago il leasing della macchina e vivo in affitto. Anche la mia famiglia di soldi della Lega non ne ha mai presi e faccio un piccolo esempio che ieri è già stato citato. La mia famiglia deve ancora finire di pagare la ristrutturazione della casa di Gemonio. Questo perché i lavori sono stati fatti quando mio papà era ancora in ospedale. Tutto a posto, tutto in regola nei conti di famiglia. Per quelli del partito c'era chi doveva vigilare. Ci sono sempre stati provvibiri che hanno il potere di controllo sull'amministratore della Lega, quindi non è che l'amministratore ha sempre fatto quello che voleva, è sempre stato controllato, per cui non ci sono bilanci opachi. C'è un federale che è a conoscenza di quelli che sono i bilanci della Lega e i bilanci anche di tutti i gruppi regionali e parlamentari che la Lega ha. Tutti i compagni di movimento gli vanno vicino, sembra un consiglio di guerra alle sue spalle Davide Boni che ha perso la leadership tra i leghisti inquisiti. È invece affidata a Lanza la difesa di Rosi Mauro. Sono tutte accuse infondate. Il sindacato Padano che contribuito a fondare è gestito con assoluta serietà e trasparenza. Tace questa mattina Roberto Maroni che ieri aveva invocato pulizie e che non si è presentato in via Bellerio nelle ore cupe delle perquisizioni, degli interrogatori, della resa dei conti, dell'amarezza di Bossi che avrebbe meditato le sue dimissioni prima di ricevere in serata quelle del tesoriere Velsito. Da lui difeso fino all'ultimo. Domani i vertici del carroccio dovrebbero vedersi per trovare il nuovo amministratore del partito. Intanto parlano a Radio Padani e militanti divisi tra aggressivi e increduli. In cinque parole non resta che lo scontro armato. Ciao. Pronto Padania Libera? Io sono Gabriella Di Varese, ossiana. Non hanno fatto mai niente. Adesso si sono svegliate e improvvisamente vogliono la pulizia. Comincino se stessi a fare la pulizia. Vergogna, vergogna, vergogna. In via Bellerio questa mattina c'è solo Calderoli ma la giornata della Lega è ancora lunga. Veniamo adesso al governo Monti, alle prese con la riforma del mercato del lavoro. Ebbene, dopo un lungo vertice tra Alfano, Bersani e Casini, il premier in tarda serata è stata raggiunta un'intesa proprio sul nodo cruciale, quello dell'articolo 18. Il testo che viene modificato in queste ore prevede il possibile reintegro se il licenziamento economico è palesemente illegittimo. Il disegno di legge sarà poi illustrato questo pomeriggio da Monti e Fornero. Allo scoccare della mezzanotte il professore tira un sospiro di sollievo. È andata bene, abbiamo sciolto tutti i nodi. Le modifiche sulle quali Alfano, Bersani e Casini avevano raggiunto un'intesa di massima hanno avuto la benedizione anche del premier. È il tempo di spingere sulle riforme, l'importante è non perdere il momentum, spiegano in un'intervista a tutto campo sulla stampa. È l'ora di puntare sulla prevedibilità, solo così attireremo investimenti. Dunque l'articolo 18 si cambia nella parte che riguarda i licenziamenti economici, comparirà la possibilità di reintegro da parte del giudice e non solo l'indennizzo. Un successo che il PD intasca dopo che per più di 5 ore Bersani ieri si è trovato con Monti in un faccia a faccia 2 e poi nel vertice allargato con Alfano e Casini. In cambio ci sarà un ammorbidimento anche sul versante caro al PDL, la flessibilità in entrata che sarà ridotta ma in modo meno incisivo di come atteso finora. Il testo sarà illustrato questo pomeriggio da Monti e Fornero in un'attesissima conferenza stampa. Insomma alla fine la strana maggioranza si ricompatta attorno al compromesso raggiunto dal premier dopo le fibrillazioni provocate dalle esternazioni asiatiche del professore. Ieri abbiamo raggiunto un accordo che io ritengo importante e significativo che avrà piccoli anche possibili margini di miglioramento in Parlamento ma che nelle linee di fondo è realizzato. Anche il PDL ha fatto la sua parte, stiamo fortissimamente uniti ha detto Berlusconi ai suoi nel vertice a Palazzo Grazioli mentre Alfano poco dopo faceva da sponda Bersani sull'articolo 18 ottenendo in cambio una maggiore flessibilità in entrata sulla riforma del lavoro. Questo metodo della mediazione che va costruita nel rapporto fra le forze politiche che poi in Parlamento danno i loro voti per i provvedimenti del governo vale per la riforma del mercato del lavoro, vale per altre misure di carattere economico, vale per le questioni della giustizia, insomma per tutti i principali problemi che stanno sul tappeto. In queste ore si lavora dunque alla stesura definitiva, quindi la firma di Napolitano, ma poi serve un sì veloce da parte del Parlamento, chiarisce Monchi. Il Parlamento resta comunque un'incognita, il governo che oggi è stato battuto su un ordine del giorno della Lega, ha deciso di porre la fiducia sul decreto semplificazioni fiscali per evitare ulteriori intoppi. Ma nell'intervista sulla stampa Monti guarda lontano e confida che i comportamenti virtuosi della sua strana maggioranza avranno un seguito dopo l'esperienza del governo tecnico. Un pronostico o una speranza del Monti pensiero? Nel 2013 dopo di me è possibile una grande coalizione e io la guarderò da fuori. Sono fiducioso che questo avverrà perché se questi partiti hanno avuto la capacità d'intesa pur senza avere il beneficio del protagonismo diretto, in una nuova fase di governi politici l'interesse al buon esito sarà ancora maggiore. Ed è proprio arrivata in questo istante la notizia che Monti e Fornero e Premier Monti, il Ministro del Lavoro Fornero, sono al Quirinale per presentare il nuovo testo che riguarda appunto la riforma del mercato del lavoro. A questo nuovo testo appunto come abbiamo sentito si è raggiunto dopo un'intesa terminata in tarda serata dopo un lungo vertice. E andiamo con le altre notizie perché c'è il fronte anche sindacale, non c'è soltanto i sindacati hanno trovato un'intesa, si sono di nuovo uniti sul fronte del mercato del lavoro e vi ricordiamo che venerdì 13 aprile scenderanno in piazza contro la riforma delle pensioni. Però sul fronte del lavoro c'è anche l'altra questione calda che riguarda gli esodati. Sentiamo. Mancano posti di lavoro, è questa in Italia la vera emergenza. La parola d'ordine del governo deve essere crescita. Lo chiedono i segretari della CISL Bonanni e della UIL Angeletti. Lo ribadisce la leader della CGL Camusso, oggi a Parma per la riunione dei delegati. Il governo sta facendo cose che possono essere importanti, dice, ma nessuna crea posti di lavoro. Le aziende in difficoltà sono un numero infinito, proprio per questo bisogna smetterla di rinviare i provvedimenti per far ripartire il nostro paese, chiarisce. Sindacati di nuovo uniti. Dopo una prima differenza di vedute sull'articolo 18, quando dieci giorni fa l'esecutivo aveva messo a punto la prima versione dell'articolato sulla riforma del lavoro e solo la CGL aveva proclamato un pacchetto di 16 ore di sciopero, ora le posizioni sono più vicine. Dopo una bacchettata a Confindustria, che per Camusso pensa solo a rendere i licenziamenti più facili, la leader della CGL si dice pronta a confermare lo sciopero se il reintegro dei licenziati in modo illegittimo continuerà a non essere previsto nel testo del governo. E non solo. Oggi Bonanni si dice d'accordo con la proposta di Angeletti di mobilitarsi su questioni concrete, come l'eccessiva pressione fiscale che penalizza i salari e strittola i consumi delle famiglie, oltre che appesantire le imprese con le conseguenze pesantissime sull'occupazione confermate dalle stime Istat. Dopo la firma del presidente napolitano, il testo della riforma del lavoro sarà all'esame del Parlamento. Intanto, al Ministero del Welfare si apre oggi un tavolo tecnico con esperti della ragioneria generale dello Stato e dell'Inps. Sette i giorni a disposizione per stabilire il numero totale degli esodati. Quei lavoratori cioè che hanno firmato un accordo con le aziende per lasciare l'impiego prima che la riforma Fornero allungasse i tempi per maturare il diritto alla pensione. Una volta stabilito quanti sono, il governo dovrà trovare il denaro necessario a risolvere la questione con un decreto ad hoc. Alle 15 la vicenda approderà anche a Montecitorio, dove il ministro Fornero risponderà ad un'interrogazione parlamentare proprio sugli esodati. Intanto, secondo quanto ha riferito il vice direttore generale di Banca Italia, Anna Maria Tarantola, durante la fase acuta della recessione, nel 2008-2009, la caduta dei redditi familiari ha raggiunto in Italia il 4% a fronte di una riduzione del PIL delle 6%. Ma oggi sul fronte dei conti pubblici c'è anche una buona notizia. L'Istat ha rivelato i dati sul rapporto tra deficit e PIL nelle 2011 e sono dati che migliorano. Vediamo. La notizia è buona. Il famigerato rapporto deficit-PIL, ovvero la differenza fra entrate e uscite statali da una parte e il prodotto interno lordo dall'altro nel 2011 è calato rispetto al 2010. Era al 4,5%, ora è al 3,9%. E potrebbe essere ancora inferiore, ovvero attestarsi al 3,8% se non dovessimo mettere in conto anche 2 miliardi di interessi da pagare su alcuni prodotti finanziari acquistati negli anni scorsi e che ci stanno costando decisamente cari. Il calcolo lo ha fatto l'Istat, rilevando, come sempre nel 2011, le uscite totali siano aumentate dello 0,5% mentre le entrate totali siano aumentate dell'1,9%. Certo, siamo ancora ben lontani da quell'ipotesi di pareggio di bilancio che dobbiamo raggiungere già nel 2013, ma il dato è incoraggiante. E conferma quanto detto ieri dal presidente del Consiglio a proposito delle indiscrezioni che sarebbero girate in Europa e poi sul Financial Times, di una nuova manovra in arrivo nel nostro paese. Niente di tutto questo, ha rassicurato Monti, anche perché quando il suo governo si è insediato ha fatti conti lasciandosi margini molto ampi sugli interessi da pagare. Per capirci, i conti Mario Monti li ha fatti immaginando tassi di interesse sul debito pubblico al 7%. Ora, per fortuna, siamo scesi e di parecchio, anche se certo non possiamo rilassarci. Lo spread già a metà mattinata era risalito a 350 punti, il che significa un rendimento per i BTP a 10 anni del 5,33%. E anche le borse non stanno andando bene. Nervose in tutta Europa, con perdite anche pesanti a metà mattinata. Scontano l'esito deludente dell'asta di bonus spagnoli, l'equivalente dei nostri BTP, che ha piazzato solo l'importo minimo previsto da Madrid. Registranno dunque un calo della domanda a fronte di tassi di interesse in rialzo. Senza contare l'attesa per la conferenza stampa di Draghi, governatore della BCE, che avrebbe fatto sapere di non essere più intenzionato a lanciare nuovi stimoli all'economia, che tradotto significa che i tassi di interesse resteranno fermi e difficilmente verrà immessa nuova liquidità alle banche. Arrivano continui aggiornamenti. Poco fa la Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge sulle semplificazioni con 394 voti a favore. Invece il Governo pone la fiducia sul testo del decreto fiscale all'esame del Senato. Il voto è previsto per questo pomeriggio. Il testo arriva in aula con diverse modifiche che sono state apportate dalla Commissione Bilancio. Vediamo quali nel servizio. Sul decreto legge di semplificazione fiscale il Governo ha chiesto la fiducia e il Senato la voterà probabilmente questo pomeriggio. All'aula, annunciato il Ministro dei rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, arriverà un maxi emendamento che sostituisce di fatto il testo originario del decreto e recepisce tutte le modifiche fatte dalla Commissione Bilancio e Finanze e quindi anche le novità che riguardano l'IMU, l'imposta municipale unica che ha preso il posto dell'ICI. Confermate le due tappe di pagamento. Il 18 giugno i contribuenti verseranno solo un acconto del 50% e le aliquote di riferimento sono il 4 per mille per la prima casa e il 7,6 per mille per le seconde case, negozi, uffici e altri immobili. Poi a dicembre si verserà la restante parte e qui il calcolo si baserà sulle aliquote definitive, quelle cioè aumentate del 2 o del 3 per mille dai singoli comuni. Ma le aliquote definitive si conosceranno solo a settembre, quando cioè le amministrazioni comunali avranno messo nelle delibere nero su bianco le varie percentuali di prelievo. Ma la strada per stabilire quanto si deve pagare di IMU sarà ancora in evoluzione perché il governo si è riservato il tempo fino al 10 dicembre di cambiare ulteriormente le aliquote per garantire alle casse dello Stato i 21,4 miliardi di euro previsti. Per quanto riguarda le esenzioni si sa che i beni immobili su quali non si pagherà l'imposta sono tutte le case inagibili o distrutte da terremoti e altre calamità. Gli altri esonerati sono le fondazioni bancarie per il governo denuncia l'Italia dei Valori che aveva presentato un emendamento contro l'esonero. Le fondazioni sono associazioni benefiche dunque non verseranno l'imposta. Sugli anziani o disabili che vivono stabilmente negli istituti di ricovero il governo si è impegnato poi ad adottare iniziative per l'esenzione a patto che l'abitazione di proprietà non sia data in affitto. E c'è un altro argomento fonte di non poche polemiche. Ebbene la notizia è di questa mattina. La commissione Giovannini ha rimesso il proprio mandato al governo nel giorno della pubblicazione del suo rapporto. Il presidente di missionario Enrico Giovannini ha spiegato che i vincoli della legge, l'eterogenità delle situazioni e le difficoltà nella raccolta dati non hanno consentito di produrre i risultati attesi. Obiettivo della commissione come si ricorderà era individuare un livello retributivo europeo da porre come limite massimo agli stipendi italiani in organi ed enti dello Stato. Un risultato che la commissione afferma di non aver potuto raggiungere. Il governo prende atto del lavoro svolto dalla commissione e proseguirà la propria azione nell'obiettivo di giungere ad una razionalizzazione dei trattamenti retributivi in carico alle amministrazioni pubbliche tenendo conto dell'indisponibilità dei dati di riferimento negli altri paesi europei. Altro tema su cui il dibattito è piuttosto acceso riguarda la riforma della giustizia. Sentiamo. Si è già perso troppo tempo per riformare le norme sulla corruzione. Un DDL giace in Parlamento ormai da due anni. È il momento di agire. È stato categorico questa mattina a Omnibus il vicepresidente del CSM Michele Vietti. Le forze politiche sono chiamate a uno scatto di orgoglio. Se non vogliamo fare la legge sulla corruzione per motivazioni ideali o etiche facciamola almeno per motivazioni economiche. In queste ore il ministro della giustizia Paola Severino che ha intenzione di presentare dopo Pasqua l'emendamento dell'esecutivo al DDL anticorruzione è impegnata in incontri bilaterali con i partiti. Oggi dalla delegazione Fli guidata da Giulia Buongiorno ha raccolto la richiesta di pene molto molto più severe nei casi di reati contro la pubblica amministrazione con interdizione perpetua dei condannati dai pubblici uffici. Dal terzo polo arriva anche la proposta firmata Casini di affidare alla Corte dei Conti il controllo sui bilanci dei partiti. Ma c'è un altro ostacolo ingombrante che divide anche le forze dell'attuale maggioranza sulla strada di una possibile riforma della giustizia. La responsabilità civile dei giudici cioè la possibilità per le parti processuali di far causa al magistrato e chiedere il risarcimento per i suoi errori. Emendamento inserito a sorpresa dalla Lega nella legge comunitaria cavalcata dal PDL e ora all'esame in senato per il neopresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Rodolfo Sabelli si tratterebbe di una vera controriforma. Una vera e propria lesione dell'indipendenza e dell'autonomia della giurisdizione. La parte che è soggetta al giudizio del magistrato avrebbe uno strumento per liberarsi di un magistrato sgradito. Negli Stati Uniti adesso tripletta di Mitt Romney nelle primarie di ieri per la nomination repubblicana alle presidenziali del prossimo 6 novembre. È talmente sicuro ormai Mitt Romney di avere in tasca la nomination repubblicana che appena comincia a festeggiare per la tripletta in Maryland, Wisconsin e Washington DC non si occupa neanche del rivale battuto oggi, Rick Santorum, ma di quello che vuole battere a novembre, cioè il presidente in carica. Obama pensa che sta facendo un gran bel lavoro, vi giuro non sto scherzando, dice Romney ai suoi sostenitori, il che dimostra che passare anni ed anni ad andare in giro sull'Air Force One circondato da uno staff adorante ti fa perdere un bel po' il contatto con la realtà. Del resto che salvo terremoti politici la vera battaglia ormai sia tra Obama e il miliardario mormone lo dimostra il fatto che lo staff del presidente martedì scorso abbia diffuso un video elettorale in cui per la prima volta attacca Romney direttamente. In realtà Mitt Romney è ancora a metà del suo viaggio nella corsa delle primarie, con le vittorie di stanotte tocca quota 655 delegati, ancora lontano dai fatidici 1144 che dovrebbero mettergli in tasca la nomination nella convention di Tampa a fine agosto. Ma ormai il sentiero è in discesa perché sembra soprattutto improbabile che qualche altro candidato possa avvicinarsi a quel tetto, anche se l'irriducibile Rick Santorum non cede neanche agli appelli dei dirigenti del partito che lo invitano ad abbandonare una lotta fratricida che va solo a vantaggio dei democratici. Ai suoi dice che siamo solo all'inizio del secondo tempo, ricorda che in ballo ci sono ancora stati come New York, California o Texas che sono miniere di delegati e dà appuntamento al 24 aprile quando si voterà nella sua Pensilvania. Ma se verrà sconfitto anche lì per l'ultraconservatore cattolico scoccherà veramente l'ora del ritiro. Siamo al calcio con l'eliminazione del Milan nei quarti di finale di Champions League. La rabbia del Milan è esplosa alla fine, durissimo l'affondo di Ibrahimovic, adesso capisco cosa intende Murigno quando viene qui. Più morbido il commento di Allegri, un rigore l'abbiamo regalato noi, un altro l'ha quasi regalato l'arbitro. E Barbara Berlusconi ha aggiunto, l'arbitro ha forse condizionato la gara con decisioni discutibili. Una su tutte, il minuto 41 del primo tempo, Nesta trattiene Busquets. In Italia rigori così non vengono mai fischiati, in Europa invece sì. Di sicuro si tratta di una decisione discutibile e fiscale che ha cambiato il destino del match e spento i sogni del Milan. Ma al di là della comprensibile rabbia rossonera, è bene sottolineare subito che il Barca ha meritato la qualificazione, perché ha giocato meglio sia ieri sera che nella gara di andata. Ha dimostrato di essere più squadra. La sua prima mezz'ora è stata uno spettacolo di tecnica e forza, con un solo limite e non riuscire a concretizzare quanto prodotto. Come si tira in porta, forse il segno di una debolezza, di un'idea banale, in mezzo a tanta forse troppa bellezza. Basta guardare i numeri per capire chi ha meritato. Il Milan ha concluso in porta solo una volta il Barca 9. La sfida tra Messi e Ibra è stata stravinta dal primo. Lo svedese si è visto solo nell'occasione del gol, bello il suo assist a Nocerino, poi basta. Messi invece si è procurato un rigore, ne ha trasformati due, ha innescato il terzo gol di Iniesta, è entrato in quasi tutte le azioni pericolose del Barca. Il Barca 9 era la favorita per vincere la Champions, rimane la favorita, quindi non so se diventerà di nuovo campione della Champions, però sicuramente rimane la favorita. Sono tre i rimpianti del Milan. Primo, aver sbagliato gol facili all'andata con Robinho e Ibra. Secondo, aver regalato un rigore al Barca, gravissimo l'errore di Mexes che ha permesso a Messi di involarsi verso Abbiati. Terzo, il più triste, aver creduto che Patto fosse guarito, in realtà non lo era fatto. La sua partita è durata 15 minuti, poi l'ennesimo infortunio. Un nuovo guaio muscolare che ora getta ombre non solo sulla stagione del Brasiliano, che ormai può dirsi finita, ma forse sulla sua stessa carriera. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. In questi minuti stanno arrivando le reazioni alla modifica della riforma sul mercato del lavoro, in particolare al capitolo articolo 18. Sono modifiche inaccettabili per il mondo dell'impresa e se confermate, in particolare sottolinano con una nota Abbi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Ania e Confindustria, la diversa disciplina per i licenziamenti di natura economica e quella che va complessivamente configurandosi per i contratti a termine, specie per quelli aventi carattere stagionale. Quindi sono modifiche inaccettabili per il mondo dell'impresa. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ricordo il nostro sito tgirasette.it. Come sempre l'edizione delle 20, noi ci vediamo domani. Buona giornata.